il laser con la faccia metti il film mettiti il film ma no il laser con la faccia metti la faccia metti la faccia metti il film metti il film guarda questo buongiorno signora viaggeremo insieme oggi signora e chi fa il tuo primo e il treno insieme signora signore di treno insieme per favore silenzio no ho mangiato il purcetto vero signora è incinta sono incinta di 7 mesi per favore mi stia la larga come ha detto guarda non lo deve chiamare ma ti fa un tiramento di fatti fuori eh signora staremo 6 ore insieme 6 ore e il treno il treno dov'è di sicilia lei ci faccia i fatti suoi ah vabbè siamo uno pari silenzio si signora però si prenda qualche pasticca non può essere signora è così un po' di lezzo shhhh sta dormendo è caldo ah perchè lei già lo sente lo sento è caldo è caldo apro signora ma cosa fa c'è caldo cosa fa ti prendo da aspettare chiuda chiuda non è per me è per lui ahhh mio figlio moriamo dal caldo perchè è per lui ahhh 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 e vabbè signora mi ha fatto chiudere c'è caldo allora almeno mi ascolto la musica quando c'è ahhh ahhh bambi bambi Che succede? Aspetta! 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 Non è per me! È per lui! Signore, il filestino no! La musica no! Che cosa devo fare io? Dormi! Non ho il sonno! Va bene, c'è una sigaretta! Ascolta, non la passa! Che cosa sta a fai? Tutto! Ma te lo fai ancora! Vengila! Sarà una donna, signora, ma alla forza di un mammut! Venga, questa è l'esperenza! Non è per me! È per lui! Uccidiamoci perché è tutto per lui, allora! La spenga, la spenga! La spenga, brutto! E la spenga, lo spenga! E' più che incinta, sembra indemoniata, sì! Signora! Signora! Che c'è? Può chiudere le gambe! E perché? Sa, non è per me! È per lui!